Ecco, Maurizio, secondo te tu che hai avuto tante esperienze, hai lavorato con Guidolina, hai lavorato con Galeone, soprattutto comunque hai lavorato in realtà, chiamiamole tra virgolette anche se il termine è brutto, provinciali. Tranne il Parma, negli ultimi anni, perché l'ultimo successo di una piccola è il Verona nell'84, tranne il Parma, negli ultimi anni, nessuna squadra è riuscita ad emergere. Chiaramente servono tanti investimenti, ma Udine, che si è assestata oramai a un certo livello, può anche con la nuova ripartizione dei diritti televisivi pensare davvero di poter competere con le metropolitane? Ma diciamo che l'udinese lo sta dimostrando, a prescindere dalla ripartizione dei diritti, diciamo che la società ormai ha dimostrato una capacità e una lungimiranza assolutamente fuori dal comune per quelle che sono le capacità della presidenza, e per cui diciamo che ormai è talmente ben avviata anche la squadra e la società che, logico, vincere un campionato non è assolutamente una cosa semplice, però, ripeto, ormai l'udinese è stabilmente nella zona nobile della classifica con gli alti e bassi che possono capitare quando lavori con giovani o quando ti trovi a dover affrontare delle annate come quella della Champions, in cui col cambio di allenatore all'ultimo momento e con una rosa fatta in una determinata maniera, non è stato semplice riportare a quello che è il progetto udinese che in questo momento, in questa annata qui, mi pare che stia ripartendo. Ecco, si dice infatti che è stata una riprova l'udinese, ma lo è in un certo senso, almeno fino adesso, anche la Lazio di quest'anno. Le squadre, che non sono Inter, Milan, Juve, che giocano la Champions, dopo pagano questo tipo di competizione, vuoi per lo stress, vuoi perché i giocatori magari non sono abituati, vuoi perché i riflettori sono tutti puntati lì. Comunque, si è visto l'annata che ha fatto l'udinese e si sta vedendo l'annata che sta facendo la Lazio. È così difficile competere su due campi così diversi? Assolutamente sì, non lo dico per esperienza personale, nel senso che ho fatto delle competizioni più basse, non la Champions League, però in pratica non ci si allena, in pratica la squadra non si allena, gioca soltanto. Ma è una questione di allenamenti o anche proprio un fatto psicologico? Ma quello psicologico è secondario, è questione di non potersi allenare ed è questione di dover avere delle rose con una qualità e con un'ampiezza nella qualità che difficilmente sono sostenibili proprio da un punto di vista economico. Per cui purtroppo viene una delle due manifestazioni, se è il campionato di Serie A, c'è Champions a decadere perché deve essere una cosa graduale e sopportarla non è assolutamente semplice, questo è fuori di dubbio. Per quanto riguarda gli altri aspetti, direi che quello psicologico sì, chiaro, viene, ma è più un logorio fisico e mentale di impossibilità di mantenere degli altissimi livelli, perché poi alla fine è una provinciale o una non grandissima che fa quel tipo di manifestazione lì e chiaramente non abituata a stare al top per mesi interi giocando partite due volte alla settimana. Bene, rieccoci in studio con ospite oggi il tecnico del Sevegliano Maurizio Trombetta, ex tecnico dell'Udinese, molto conosciuto come abbiamo detto. Stiamo parlando di come l'Udinese può arrivare a vincere qualcosa se è in grado di farlo. Ecco Maurizio, tu hai conosciuto da vicino la squadra l'anno scorso, che poi più o meno è la stessa di quest'anno. Entrando anche nel merito dei giocatori, di Natale, l'anno scorso ha fatto molto bene, però i livelli che sta toccando quest'anno sono decisamente superiori. Te l'aspettavi, tu che lo conosci bene. Sì, le qualità di Totò sono assolutamente eccezionali. Diciamo che è un anno di maturità in più, oltre che un anno di nazionale in più, perché poi alla fine anche avere la gratificazione di giocare a livelli di nazionale e perdere le qualificazioni importanti sicuramente aumenta ancora di più l'autostima e quindi la capacità di rendere a così alti livelli. Ma appunto perché la rosa è molto simile a quella dell'anno scorso, tranne qualche innesto importante come Floroflores, Pepe, Quagliarella, Inler, però insomma diciamo che l'ossatura è rimasta la stessa. In cosa è cambiata l'Udinese? Cioè veramente è cambiato il modello societario? I giocatori hanno trovato più stima, hanno capito di aver sbagliato probabilmente? Ma probabilmente si sono trovati subito, o almeno relativamente subito, gli equilibri per questo gruppo. È cambiato non molto, però bisogna dire che gli innesti, quelli che sono arrivati, i giocatori che sono arrivati, sono di qualità assolutamente ottima e lo stanno dimostrando proprio col rendimento immediato quando vengono chiamati in causa. Sono tornati giocatori che dopo un anno magari sono maturati, faccio l'esempio di Pepe, che è l'ultimo che ha avuto adesso questo SPA a Firenze. È tornato disponibile Felipe, che l'anno scorso, sì, primi mesi della gestione, mia, era disponibile, ma ormai al 100%, che poi in pratica è stato fermo un anno ed è un giocatore di una qualità assolutamente indiscutibile. Nel frattempo, per una casualità, non lo so, per, sono venuti a mancare quelli che potevano essere invece i punti di riferimento vecchi, Pinzi, Obodo, è andato via Vincenzo, e quindi il punto di riferimento vecchio in pratica è rimasto Totò e probabilmente in queste varie casualità sono stati bravissimi l'allenatore, lo staff, la società a trovare l'equilibrio giusto per indirizzare così bene un gruppo qualitativamente assolutamente buono, ma che magari sta avendo dei risultati che, certo, sono sempre sperabili, ma non sempre così facilmente raggiungibili. Si fanno molti paragoni, ti volevo fare appunto due domande su questo, tra l'Udinese e di Zaccheroni, quella che è arrivata terza, e quella di quest'anno, analogie che nascono anche dai punti che sta facendo. Secondo te, Zaccheroni, ecco, prima di tutto, che differenze vedi tra le due squadre, anche proprio dal punto di vista strettamente tecnico? Secondo punto, Zaccheroni ha detto espressamente che quell'anno poteva vincere lo scudetto se forse c'era un po' più di pressione da parte dell'ambiente, cosa che c'è nelle grandi piazze e qua Udine manca. Quanto conta la pressione? Udine, da questo punto di vista, aiuta o no? Aiuta a lavorare in tranquillità, aiuta da un punto, toglie da un altro, naturalmente, ad altissimi livelli per vincere un campionato. Non credo che a Udine, cioè, potrebbe essere decisiva la pressione. Naturalmente Zaccheroni parla con molta più esperienza e ragion veduta di quello che posso fare io. Lui ha lavorato sia negli ambienti provinciali e sia soprattutto negli ambienti di altissimo livello, Lazio, Milan, Inter, vincendo gli scudetti. Chiaramente lui ha più cognizione di causa rispetto a quella che ho io, però dico, io ho l'esempio di Bologna, dove lo stesso con Guidolini abbiamo avuto la possibilità di arrivare a dei risultati molto, molto lunghieri, addirittura arrivare in Champions League, non ci siamo mai arrivati. E lì sicuramente un po' di pressione in più avrebbe fatto senz'altro bene. ma d'altronde è impossibile, non si può avere tutto. La botte è piena, la moglie è ubriata. La possibilità di lavorare con tranquillità in quelle realtà lì provinciali. Bologna certamente è un po' meno provinciale di Udine, ma insomma Udine è un gioiellino da questo punto di vista qua. Ti dà la possibilità di avere la pazienza, di aspettare un Montari per tre anni, di aspettare un Felipe per tre, ma di sapere che poi quando hai dei giocatori, ce li hai con delle qualità fenomenali in altri posti, probabilmente non sarebbe stato possibile riuscire a mettere in atto quello che ha messo la famiglia Pozzo.